Queste sono domande che a volte la gente ci fa. Ma sembra che per alcune persone parlare del demonio ai bimbi, ai bambini, sia qualcosa di terribile che può provocare un trauma. E invece io penso che sia molto necessario. Allo stesso modo che i genitori educano i loro figli fin da quando sono piccini perché non cadano nel male, pensiamo a una mamma come protegge il suo bambino perché non si avvicini, che ne so, al ferro di stiro o perché non si metta a lecare un contatto elettrico, una pressa elettrica. Perché si preoccupa che il figlio non si metta in contatto con il male. È una preoccupazione che appartiene appunto alla natura stessa di essere genitori. Proteggere i figli dal male è qualcosa di essenziale. Bisogna dirle questo non si fa, questo si fa. Così ci hanno educato a tutti quanti. E nessuno si sente traumatizzato perché mi abbiano detto attento che se metti la mano nel ferro di stiro ti brucerai. No, uno lo capisce, magari perché si è bruciato anche qualche volta. Però è importante che i genitori abbiano questa consapevolezza che non ci sono soltanto mali fisici, ci sono anche purtroppo mali spirituali. C'è questa entità, c'è questa persona del demonio, un angelo caduto che cerca di farci male. Nel Vangelo si racconta in diversi momenti l'azione del demonio. Nel capitolo 7 del Vangelo di Marco si racconta come Gesù arrivando alla regione di Tiro viene subito raggiunto da una donna piena di fede. La ricordi una mamma sirofenicia che si mette ai piedi di Gesù e gli chiede pietà perché il demonio si è impossessato di sua figlia. E il Signore è molto duro, lo ricordi, dice lascia prima che si sazino i figli perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ma quella donna, quella mamma preoccupata per sua figlia gli dice Signore anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole del pane dei figli e allora Gesù gli disse per questa tua parola va, il demonio è uscito da tua figlia. Gesù sa dell'esistenza del demonio, lo sa molto bene. Ha provato le tentazioni nel deserto, ha provato l'azione del demonio lungo la sua, diciamo così, missione in questa terra, ha scacciato tanti demoni dalle persone, ha guarito tante malattie causate anche dal demonio e poi ha vinto la morte che è l'ultima leata del demonio. L'ha vinto con la sua risurrezione. Allora è importante parlare di queste cose ai bambini, è importante quella prima catechesi in casa per instillare nei bimbi la devozione all'angelo custode, fin da piccoli, che sappiano che non sono da soli davanti al demonio, ma che tutti noi abbiamo la protezione del nostro angelo custode, che conoscano i bimbi fin da piccoli il grande potere che ha la Madonna sul demonio. E come il demonio appena sente il nome di Maria, fugge da quella situazione, da quella persona, che imparino a difendersi dalle tentazioni invocando il nome di Maria, che imparino il valore di avere un crocifisso in camera per guardarlo e quando si sentono tentati o quando hanno paura che ricordino lì sta Gesù che mi sta guardando. È importante che i genitori non abbiano paura di parlare del bene e del male ai figli che li stanno educando.